bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tutte le news delle ultime 24 ore di fortnite le trovate racchiuse in questa manciata di minuti voglio subito ringraziare per tutti i like che lasciate ogni giorno e per i commenti sotto questi video raga mi state aiutando un sacco a riportare i video nei consigliati quindi grazie di cuore oggi parliamo di un po di cose ovviamente news sull'evento ieri anche se era domenica epigames ha comunque lavorato ha inserito delle cose che voglio farvi vedere vedremo anche alcune immagini super interessanti che potrebbero essere dedicate alla season 5 e mi riallaccio al discorso del personaggio famoso che forse sarà fatto come skin su fortnite prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi e si tratta proprio dell'argomento che non sono riuscito a dirvi nel penultimo video come vedete bd questo tizio qua con un account appunto verificato di twitter quindi qualcuno di sicuramente seguito dice perché sembrerebbe che su fortnite venga fatta una skin di the rock avete presente dwayne johnson mi sembra si chiami lui the rock no quello gigante che non entra più neanche nelle macchine da quanto è pompato ma no perché è grasso perché è grosso principalmente joshua erenberg che deve essere uno che lavora dentro il team di sviluppo dice non darmi a me queste idee no non perché no e sotto risponde proprio lui dwayne johnson che dice con un occhiolino aspetta un attimo bd però è una bella idea nel senso ora io non so se siano semplicemente scherzando queste tre persone oppure ci possa essere qualcosa di semi ufficiale perché in realtà sono pochissime le persone reali che sono poi state trasformate appunto in skin di fortnite beh io la skin di the rock la vorrei nel senso non so voi però c'è un hitbox enorme però questo era l'argomento di cui vi avevo anticipato un paio di giorni fa ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché queste invece sono delle notizie molto più interessanti per quanto riguarda invece l'evento che vi ricordo si terrà martedì quindi domani alle ore 22 io sarò in live speciale dalle 20 su twitch oltre a fare la mia live normale dalle 8 alle 16 mi ritroverete anche dalle 20 fino ad oltranza per vivere insieme tutto l'evento e poi facciamo l'albero di natale giusto così per dirvi perché vi sto facendo vedere queste sottocartelle perché hanno aggiunto nuovi effetti che hanno preso dall'evento del dogus cactus adesso ragazzi e anche dall'evento dello zero point ora il fatto che abbiano preso degli effetti dalle dall'evento dogus cactus non vuol dire che torna nel dogus e non è detto neanche che torni cioè nel cactus e non è detto che torni il dogus però hanno riciclato tra virgolette alcuni effetti speciali parecchi tra le tra le altre cose che abbiamo già visto in realtà la teoria che possa ritornare il dogus essendo stato sparato in cielo per contrastare galactus è abbastanza interessante secondo me un po priva di fondamenta però comunque sappiate che tantissimi effetti speciali di quello che sarà l'evento più importante della storia di fortnite in realtà li abbiamo già visti in altri eventi ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo video registrato prima dell'uscita dello shop ma oggi nel negozio dovreste trovare il pack di benji fish quindi per tutti quelli che amano appunto il pro player di fortnite come vedete lì nella terza ultima riga benji fish locker è questo in poche parole quindi un set davvero interessante la bacchetta stella la skin che non mi ricordo come si chiama sinceramente la ragazza con l'occhio bendato e copertura sulle armi rosa e il deltaplano dei coralli quello che canta insomma ragazzi un ottimo modo per completare per comprare scusatemi tanti outfit picconi che non c'entrano in realtà con la skin ma che tutti assieme vanno a formare appunto il nuovo bundle vi ricordo che prima c'è stato quello di nick e h30 adesso c'è quello di benji fish ma dovrebbero essercene poi ancora altri in arrivo andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché come sempre le informazioni sul galactus non mancano nei miei video news anche perché è l'argomento di punta di questi giorni questa immagine è stata presa direttamente nelle ultime ore serali di ieri e come vedete ragazzi si comincia ad avere un po la caghetta del dell'arrivo del galactus che esce direttamente dalle acque manco fosse la mascotte del tonno nostromo è veramente incredibile corna giganti testa gigante e non abbiamo assolutamente visto il corpo corpo che in realtà secondo me verrà si emergerà diciamo nell'evento non lo vedremo molto probabilmente né oggi né tantomeno domani aggiornamenti anche per quanto riguarda prima volevo farvi vedere questa panoramica perché è meravigliosa questa immagine colori eccezionali che ci fanno capire quanto è grande il galactus rispetto a tutto quello che c'è nella mappa è veramente enorme questo invece è l'immagine del locker della pre lobby insomma dove ci sono tutti gli eroi marvel e come vedete siamo praticamente arrivati all'ologramma finale quello dove il galactus è fuori e manca davvero pochissimo questa immagine segna due giorni quattro ore 20 minuti quindi davvero una roba incredibile è una roba molto interessante arriva anche direttamente da marvel perché sapete ragazzi comunque marvel rilascia ora non so se con cadenza mensile o settimanale i fumetti alcuni dei fumetti avevano proprio in copertina il crossover tra fortnite e marvel e quello dell'ultima stampa parla proprio della mappa di fortnite ora io non ho letto la storia perché non leggo i fumetti però dice the island close to zero e poi parla di tutto quello che c'è il problema raga cioè the island close to zero è una figata da leggere perché vuole proprio confermare il fatto che anche questo evento è legato allo zero point quindi all'evento della season 1 e si afferma secondo me con questa cosa il fatto che potrebbe seriamente essersi uno stravolgimento della mappa direttamente alla quinta stagione del capitolo il che sarebbe una cosa incredibile anche perché sono dovute passare 10 stagioni nel capitolo 1 per vedere una mappa nuova forse adesso hanno deciso di dare una marcia in più quindi cambiano mappa dopo quattro stagioni io non lo so sappiamo che l'evento è enorme hanno fatto 4 giga di evento che in realtà è un giga di evento e terre dovrebbero essere le modifiche della mappa e vi garantisco che fortnite che pesa su pc 26 giga averne quattro solo dedicati all'evento è tanta roba nel senso è qualcosa di veramente incredibile ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché si parla anche di winter royal ragazzi con la stagione 5 con l'arrivo di dicembre delle festività natalizie arriva anche il winter royal molto sentito sicuramente dagli sviluppatori anche perché è data ovviamente la situazione mondiale non ci possono essere degli eventi fisici quindi non c'è stata la work up e non ci saranno ovviamente altri eventi dove ci sia tanta gente quindi winter royal ragazzi in realtà viene annunciato direttamente dal sud america ora abbiamo queste due righe poi ci saranno delle informazioni più dettagliate nei prossimi giorni ve le dirò tutte appena le scopro anche io però la prima dice tradotto secondo me vuol dire l'annuncio ufficiale arriverà tra il 5 e il 15 di dicembre e poi sarà per le piattaforme quindi probabilmente il winter royal sarà diviso per console e pc ora io penso che anche sulle console non ci sia il cross ma probabilmente forse xbox e ps non lo so questa è una mia supposizione comunque aspetteremo ancora qualche giorno prima di saperne di più insomma ragazzi io mi sono un po' dilungato per oggi ma tutte le news ve le ho dette vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un pollicione in su premete il like non vi costa niente ragazzi e se volete anche un commento qua sotto aiutatemi a portare questo video tra i consigliati noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao 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 ciao